Il giro di prostituzione non esiste, alcun giro di prostituzione, assolutamente, anche questo una calunnia. Qual è la realtà? Che il Presidente Berlusconi ha da fare parlamentari con parlamentari ed altro. Una persona, un imprenditore di Bari, ormai noto, che si chiama Tarantini o Tarantino, era venuto ad alcune scene facendosi accompagnare da belle donne. E io dico che, anzi tra i maschi, i miei colleghi e qualcuno qui presente, la mano a dire che non è una cosa gradevole quello di sedersi a un tavolo e invece di trovarsi soltanto persone lontane dall'estetica, se invece gli occhi si possono posare su delle presenze femminili, gradevoli e simpatiche. Erano ragazze che questo signore portava come amiche sue, come sue conoscenti. E questo è tutto. In un caso, una di queste persone ha attentato a me e risponderà davanti dei giudici italiani. E basti dire che la somma delle pene di tali previste, nel loro massimo, dai quattro reati che questa persona ha commesso, arriva a 18 anni di detenzione. Grazie.